Ovidio e la Vespa diventano una cosa sola nel calendario 2017 dell'associazione Vespa Club che già sta facendo il giro della città. Una produzione colorata e originale realizzata con dovizia di particolari che rende omaggio al poeta Peligno in vista della ricorrenza del bimillenario della sua morte. Oltre 700 le copie distribuite nel capologo Peligno da gennaio a dicembre la statua di Ovidio di piazza 20 Settembre a Sulmona è stata immortalata da tutte le angolazioni, una prospettiva che sfugge ad occhio nudo. In ogni mese dell'anno viene riportata anche una citazione di Ovidio. I mesi di novembre e dicembre sono dedicati all'esilio con il poeta che viene raffigurato di spalle come se fosse cosciente di abbandonare la sua amata patria sulmonese. Ad Ovidio e alla Vespa, grazie a Panfilo d'Angelo, viene dedicata anche una poesia. Fu amore a prima vista, fu amore per tutta la vita, fu compagna fedele di mille avventure, si legge nel testo che richiama l'amore per la Vespa, nell'ottica di Ovidio. In un momento dove il bimillenario della morte del poeta è sulla bocca di tutti ed è al centro di una progettazione partecipata, il calendario del Vespa Club è sicuramente un lavoro degno di nota. Un prodotto che promuove il territorio, destinato a riempire uffici e scrivanie di tutti coloro che amano la patria del poeta Peligno.